Ogni giorno c'è qualcuno che fugge dai bombardamenti, circa 40.000 persone, ma dall'inizio del conflitto è diminuito il numero degli ucraini che scappano dal loro paese. In tanti sono già al sicuro negli stati dell'Unione. Sono oltre 4 milioni i profughi che hanno varcato i confini, un cittadino su 11. Oltre 2 milioni sono in Polonia, più di un milione tra Slovacchia, Ungheria e Romania. Di fronte a un'emergenza senza precedenti, l'Europa è intervenuta con un piano dettagliato per fronteggiare le necessità dei rifugiati e di chi li accoglie. Da Bruxelles supporto logistico e assistenza a chi vuole passare da un paese all'altro. L'obiettivo è alleggerire la pressione di quegli stati che hanno accolto un numero maggiore di rifugiati, ma per ora niente quote di ripartizione obbligatorie. Anche l'Italia è in prima linea nell'accoglienza. Sono oltre 75 mila gli ucraini arrivati nel nostro paese, soprattutto donne e bambini. Di questi 5.600 sono ospitati nei centri di accoglienza. A fornire numeri dettagliati è stata la ministra dell'Interno Lamorgese in un'audizione al comitato Schengen. La titolare del Viminale ha inoltre annunciato come gli immobili confiscati alla mafia verranno messi a disposizione dei rifugiati, per un totale di 3.000 posti. Dopo il DPCM firmato da Draghi sulla protezione temporanea, l'Italia, ha sottolineato la Lamorgese, concederà il permesso di soggiorno temporaneo non solo agli ucraini, ma a tutti gli apolidi. Con l'auspicio che questa drammatica guerra possa sbloccare l'impasse sul patto asilo e migrazione da troppo tempo fermo in Europa, conclude la ministra. Sarà inoltre garantito a tutti gli ucraini che abbiano fatto richiesta di protezione temporanea e trovato una sistemazione autonoma, un contributo di 300 euro mensili e 150 euro per ciascun figlio minorenne.